Motu proprio, Tenuta a Tre Rose 2013. In realtà non è solo Tenuta a Tre Rose, ma è l'unione dei migliori sangiovesi provenienti da Val di Suga a Montalcino, da San Leonino in Chianti Classico, Castellina in Chianti e da Tenuta a Tre Rose a Valiano di Montepulciano. All'interno di questo vino esiste il concetto di andare in controcorrente, di esprimere il Super Tuscan non attraverso l'unione di vitigni internazionali, ma attraverso il ricercare la migliore e più pura espressione del sangiovese nei tre areali più importanti che accolgono questo vitigno all'interno della Toscana. È un vino quindi che unisce la tannicità e la concentrazione che si può incontrare a Montalcino, unisce la freschezza, la sapidità e l'energia, il nervo tipico, tipiche caratteristiche delle zone di Castellina in Chianti, ma unisce anche quella balsamicità e quella dolcezza molto più tipica dei terreni di argille e sabbie che si incontrano qui in questo lato più a sud-est della regione toscana nel vino nobile di Montepulciano. Grazie.